eccoci qua salve a tutti amici e bentornati sul mio canale bentornati dal vostro gigio iuva ragazzi mi avete chiesto proprio in questi giorni tante volte di identità bianconera che cosa ne pensasse in proposito di tutta questa faccenda della curva nord dell'inter identità bianconera è tornata a battere un colpo e l'ha fatto in modo molto deciso l'ha fatto ragazzi insegnando insegnando come ci si deve comportare dando una lezione morale senza precedenti al giornalista che avete visto che avete sicuramente riconosciuto nell'immagine di copertina che aveva fatto il solito tweet dalla che perché poi lo sappiamo questo giornalista è un giornalista che è un è ondeggiante ondeggia un giornalista che a seconda delle situazioni cerca di cavalcare l'onda per diciamo trovare trovare la soluzione migliore su chi e cosa appoggiare e in questo caso in questo caso la sua opzione era naturalmente andare a nascondere le colpe dell'inter all'interno di tutta questa faccenda come tra l'altro stiamo documentando da giorni sta avvenendo in maniera fortissima soprattutto gazzetta dello sport lo sta facendo in modo vergognoso assolutamente vergognoso andando addirittura a sponsorizzare come visto più volte anche i comunicati della nuova curva nord che prende le distanze dicendo che solo l'un per cento dei tifosi interisti che fa queste cose ma l'un per cento per quello che ho fatto basti avanza e noi interessa il comportamento che ha avuto l'inter che ha avuto un comportamento che è deplorevole e identità bianconera ha messo l'accento su questa cosa ne parliamo insieme in questo video ma come al solito vi chiedo fondamentale un like a questo contenuto l'iscrizione gratuita al canale perché ragazzi iscriversi vuol dire far crescere questo canale vuol dire come state già facendo in tanti io non posso fare altro che continuare a ringraziarvi perché state innanzitutto mi state gratificando in tutti i modi state gratificando il mio lavoro con tanti like tante visualizzazioni tanti messaggi quindi ho poco poco da dire però dobbiamo continuare dobbiamo assolutamente continuare a crescere perché crescere vuol dire aumentare i decibel della nostra protesta e noi siamo un canale molto combattivo da questo punto di vista e quindi dobbiamo diventare sempre sempre più importanti quindi laiccate iscrivetevi e campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale fatta questa doverosa premessa cerchiamo di capire come si è inserita la fondazione identità bianconera sul discorso inter curva nord proprio perché ragazzi come abbiamo visto in questi giorni si sta tentando di minimizzare la colpevolezza dell'inter che è una colpevolezza totale soprattutto dal punto di vista sportivo che come vi ho più volte detto va a toccare senza se senza ma senza dubbio oltre all'articolo 25 che quindi l'articolo che ti impedisce di avere rapporti con la tifoseria organizzata va a toccare secondo me la lealtà sportiva tramite l'articolo 4 però ragazzi identità bianconera non può essere così diretta e e va ad attaccare chi cerca di minimizzare la posizione dell'inter chi cerca di difenderla con messaggini subdoli che tra l'altro sono anche diseducativi stiamo parlando ragazzi di giovanni capuano giornalista del sole 24 ore di radio 24 che all'indomani subito dopo diciamo che si era presa la notizia che il pm paolo storari era stato munito di scorta proprio perché era in pericolo proprio perché la situazione è grave dice a tutti quelli che semplicisticamente dicono basta denunciare si capisce la gravità della situazione proprio da queste cose e quindi forse è riduttivo dire basta denunciare perché la situazione è molto grave e quindi in pratica ragazzi va a giustificare la posizione dell'inter anche del milan perché viene coinvolto anche il milan ma ragazzi ma lo sappiamo che la che il milan viene tirato in ballo semplicemente per fare il giochino del macro comune mezzo gaudi quella che è è la posizione dell'inter e lui naturalmente vuole come sta facendo in questi giorni vergognosamente gazzetta dello sport come stanno facendo tanti media i soliti media di sistema cercare di ridimensionare il tutto perché perché l'inter deve arrivare a patteggiamento oppure prendere la solita multina senza neanche un punto di penalizzazione questo è lo scopo finale e qui interviene identità bianconera che non entra in merito alla questione non entra in merito alla questione ma che entra a gamba tessa su questo post e dice spero che radio 24 e il sole 24 ore prendano le distanze da questo tipo di messaggio perché volendo far passare questo tipo di messaggio nessuno dovrebbe mai denunciare la mafia ed invece come ci viene insegnato da strisciare la notizia ma ci viene insegnato un pochino da tutti non solo da strisciare la notizia aggiungerei io quella è un'aggiunta un'aggiunta mia di gigio e ci sarebbe ci sei è sempre da denunciare la mafia perché la mafia fa schifo in pratica va a dare una lezione morale a distruggere la posizione dalla che di capuano perché capuano in questa situazione ragazzi si comporta dalla che si comporta come uno che vuole proteggere una determinata situazione ma purtroppo ragazzi quando parliamo di giornalismo sportivo italiano in questo periodo siamo tristemente siamo tristemente abituati a questo tipo di atteggiamento e questa volta giovanni capuano che ve l'ho detto è uno che è un po un cane sciolto da questo punto di vista alle volte dice una cosa a favore di una alle volte la dice a favore di una non è per dirvi il classico biasine che è sempre schierato al servizio del padrone ma è uno che a seconda della convenienza va una volta da una parte una volta dall'altra però naturalmente in questo periodo in questo periodo bisogna andare a favore dell'inter a tal proposito faccio notare alla fondazione identità bianconelli l'avevo scritto e l'avevo fatto notare anche taggando anche taggando su su x che anche il signor ravezzani aveva fatto un post praticamente identico qualche giorno prima dicendo praticamente la stessa identica cosa quindi lui si era attaccato diciamo all'omicidio bellocco quando la curva ebbe la potenza ebbe la potenza di far uscire tutti gli altri tifosi ma e disse non basta che praticamente era ridicolo prendersela con l'inter che non la che non aveva denunciato perché era era molto difficile denunciare del resto ragazzi del resto vi vi faccio notare come gli interisti sono spaventati dai da quelli della curva per le minacce ricevute anche il tono delle intercettazioni molto spesso i giocatori dell'inter erano spaventatissimi lo stesso in zaghi spaventatissimo anche zanetti quando ha fatto da palo avvertendoli della dell'inchiesta in corso ci dovrebbe spiegare ancora chi ha avvertito lui di quell'inchiesta ma aspettiamo prima o poi magari ci arriverà questa notizia era spaventatissimo anche zanetti anche marotta quando diceva di non vedersi sotto le telecamere di appiano gentile ma di cercare magari un pub dove vedersi discretamente con screener era spaventatissimo ragazzi perché perché l'inter ha subito delle pressioni importanti la povera inter parte l'esa parte l'esa e bisogna spostare il focus dall'inter ragazzi lo ha detto e ripetuto munito di telefonino con tanto di crit dell'inter tanto di logo dell'inter il nostro anche carissimo procuratore capo della repubblica di milano appunto marcello viola e quindi ragazzi dobbiamo spostare il focus perché l'inter praticamente è innocente e lo dicono loro e lo dicono tutti del resto ragazzi che cosa ci volete fare naturalmente io avevo anche cercato di approfondire la situazione avevo anche cercato di approfondire la situazione sapete che ho contatti con alcuni membri della fondazione identità bianconera ed in particolare con l'avvocato patrice e gli avevo chiesto cosa stesse cosa pensasse identità bianconera di questo proprio qualche giorno fa e cosa avessero in mente di fare dal proposito mi è stato detto che stanno vagliando la situazione stanno visionando dal punto di vista legale come si stanno muovendo e quali sono le eventuali prossime mosse da fare perché naturalmente ragazzi finché si parla finché si fa notare un post in cattiva fede come in questo caso si può fare intraprendere un'azione legale o comunque cercare di fare qualcosa dal punto di vista legale c'è bisogno c'è bisogno di ben altro e comunque parliamoci chiaro ragazzi questa è un'inchiesta sull'inter la fondazione identità bianconera cosa potrebbe fare visto che voi siete in tanti che ne che volete sapere c'è l'unica cosa che potrebbe fare è far notare delle incongruenze magari tra l'indagine che fu svolta all'epoca sulla juventus e l'indagine che viene svolta adesso sull'inter ma quello ragazzi lo possiamo fare anche noi e credo e spero che non vogliate che dire che non lo stiamo facendo perché su youtube siamo in tanti a parlare di questo siamo in tanti a puntare su questo siamo in tanti che stiamo cercando di portare a galla verità che molto spesso in tanti hanno interesse a a lasciare un attimino nascoste punti di vista che si cerca di tenere sempre nascosti e si cerca di portare avanti quella che naturalmente ragazzi la come dire la narrazione del sistema purtroppo loro ragionano in questi termini e noi dobbiamo cercare cercare sempre e comunque nonostante che diventi ragazzi effettivamente sempre più pericolosa questa cosa dobbiamo cercare di farlo al meglio io lo devo a voi lo devo a me stesso lo devo al mio non sapere sta zitto davanti alle schifezze che vedo io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto regalandomi qualche minuto della vostra giornata vi chiedo naturalmente cosa ne pensate di tutta questa situazione fatemi sapere quindi cosa ne pensate nei commenti e fino alla fine contro tutte e tutti sempre comunque forza juventus forza identità bianconera e un bel inter merda per continuare la giornata non guasta davvero mai